Il nome è tutto un programma, emblema. Roberto, ti dico la verità, lo dico a telecamere aperte. Io camminavo, non avevo nessuna intenzione di fermarmi allo stand di occhiali perché oggi avevo deciso di fare il customizer. Ragazzi, io non amo particolarmente il disco di occhiali perché sono convinto che avendo il viso piccolo mi stanno tutti male. Mi sono fermato, ho provato questi, non mi ricordo, questi, sono fichissimi, sono fichissimi, ho chiesto informazioni. La cosa bella è la risposta che mi ha dato, al di là che è una persona piacevolissima, però io voglio, non è pubblicità ragazzi, per niente. Vi assicuro sono leggerissimi, vestono bene, però lui mi ha risposto così. Il primo problema che si pone un motociclista è mettersi gli occhiali con il casco addosso. Ora vi dà la risposta e poi tutto quello che mi hai detto, come mi hai detto a te, lo diciamo agli amici a casa. Perfetto. Ciao, io sono Roberto, rappresento emblema a Rombo di Tuono. Mi è stato chiesto cosa avevano di particolare i nostri occhiali. Noi quando abbiamo inventato questi occhiali ci siamo posti il problema di chi va in moto o comunque indossa un casco anche in macchina per correre a livello agonistico o altro, del fastidio che normalmente danno le astine degli occhiali. Quindi abbiamo risolto il problema facendo queste astine molto corte, sottili e molto flessibili. Schiacciate. Schiacciate, piatte, sì esatto, che si possono infilare molto comodamente sotto qualsiasi tipo di casco. Detto questo poi la gamma dei nostri occhiali comprende molti modelli, alcuni fattibili da vista, alcuni invece che rimangono da sole. E sugli occhiali da sole sono tutti montati con lenti con antiriflesso interno. E questo modello che ho in mano in questo momento che ti ho fatto vedere, la particolarità è che è completamente in titanio giapponese, lavorato completamente in Italia presso la nostra sede di Vicenza, quindi possiamo definirlo quasi un prodotto artigianale. E il particolare di questo preciso modello è l'elasticità. Che è una figata, guardate. Questo modello qui è in grado di allargarsi e stringersi come si vuole ed è assolutamente indistruttibile. E metti che io lo schiaccio con un hammer H1 e lo rompo? Guarda, a noi è capitato proprio un nostro cliente che gli è finito sotto un cerocchi, ce l'ha mandato, gliel'abbiamo rimesso in quadro, gli abbiamo sostituito le lenti e quell'occhiale è completamente nuovo. Qui ti volevo. Se invece si dovesse rompere, questo occhiale è un occhiale della nostra collezione che noi garantiamo per tutta la vita, perché non si può rompere, cioè assolutamente non si può rompere. Ricchi questi di emblema non diventeranno mai, però vi assicuro ragazzi che ne vale la pena andare a dare un'occhiata, a parte le battute controllate perché è veramente fantastico. Tra l'altro, no, beh beh, noi ricchi non diventeremo mai con questo modello sicuramente, perché effettivamente... Cura una vita! Effettivamente è così. E tra l'altro c'è da tenere presente che questo modello che tu vedi c'è con sette varianti di colori di lenti diverse, quindi che vanno da... se possiamo inquadrare l'espositore... Ora li guardiamo tutti, facciamo un primo piano... Quindi che vanno dalla lente notturna, quindi molto chiara, alla lente molto scura, passando per la sfumata e gradazione intermedia per coprire tutti i fastidi della luce. Ragazzi, vale la pena. Emblema su internet www.emblema.bike Per ogni informazione Roberto, io sicuramente me li prendo. Voi cosa aspettate? Grazie. 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 Grazie.